... con il numero 14 giocolini, il numero 21 lì, il numero 22 i bianchetti, con il numero 25 il ruolo, con il numero 27 Balotti, con il numero 37 Balotti, con il numero 97 Feliciotto, allenatore della Senora e Fabio Pecchiano. Con il numero 27 Roberto, con il numero 7 Gio, con il numero 8 Alcatra, con il numero 25 Gio, con il numero 33 Colino, con il numero 37 Milano, con il numero 34 Milano, con il numero 77 Marisela, con il numero 87 Antonio, con il numero 9 e il capitano di Brunello. Gio, con il numero 27 Alcune, Bagnaio Pagliari con il numero 27 Tolan, Lenni con il numero 46 Risato Lappo con il numero 22 Mattias, Messina con il numero 11 Ian Caramotto con il numero 27 Borca, Magnaio con il numero 20 Davide Sento, Anatole con il numero 21 Siddi Martin, Eder con il numero 23 Enrico Eder con il numero 29 Venti Davide Sento, Anatole con il numero 29 Pagliari con il numero 99 Valore del Gio, Lucio Eario Solerri Il gioconto è scolto, Luca Locchi e Sfretti, Lodincio del Verdi, Porto 9 in linea, Barra, Giuda, Pugno Sempre E suona Forza Vite Forza Che Grazie a tutti.